Dopo oltre 40 anni, riapre ai suoi cancelli Villa Alliata di Pietra Tagliata, la villa del principe mago, così come Bent Parodi, in un suo celebre libro, definì Raniero Alliata, proprietario e ultimo custode della nobile dimora. Generalizzata nel 1883 dall'architetto Francesco Paolo Palazzotto, è considerata una delle costruzioni di maggior pregio del periodo neogotico siciliano. Devastata e saccheggiata negli anni, la villa riapre al pubblico ancora a cantiere aperto grazie a Restart, il festival della ripartenza, giunto alla sua terza edizione, che fino al 10 settembre, ogni venerdì e sabato, mette in scena le notti della bellezza, in nome del desiderio comune di riappropriarsi del patrimonio storico e artistico della città. Restart nasce come festival della ripartenza dopo due anni di pandemia, ci fa piacere ospitare Villa Alliata dopo 40 anni di chiusura, di devastazione, alla luce di questi restauri importanti che la proprietà sta facendo e che ha voglia di fare vedere alla città. È una grande novità, è una bella scoperta, è la villa del Principe Mago, ha tante storie, tanta storia e a cantiere aperto faremo le visite guidate in questo meraviglioso luogo. Venerdì 29 e sabato 30 luglio dalle 18 alle 20 tocca Villa Alliata di Pietratagliata, una riapertura storica per un restauro lungo e complesso. Noi abbiamo iniziato nel 2019 la progettazione e nel 2020 sono iniziati i lavori e abbiamo trovato una villa abbandonata, saccheggiata e anche sfreggiata dal sacco di palermo che voi vedete. Voglio sottolineare che gli intonaci sono stati analizzati appunto per riprendere la vecchia grana che era stata utilizzata nel tempo facendo degli studi con l'Università dell'Aquila e poi riproposti gli intonaci per avvicinarci alla composizione di questi. L'intervento è stato molto impegnativo, di fatti la villa in un qualche modo è stata integralmente consolidata in tutti i suoi solai, abbiamo fatto un intervento conservativo mantenendo gli stessi tipi di strutture portanti quindi tutti i solai sono rimasti linei però con degli interventi migliorativi che hanno tra l'altro permesso di fare un salto di classi dal punto di vista anche sismico. In generale gli oltre 20 siti di Restart apriranno straordinariamente in notturna ogni venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte fino al 10 settembre. Ingressi su prenotazione su restartpalermo.it scegliendo precisi slot orari secondo le indicazioni di ciascun sito.